I rimedi contro lo smog sono stati al centro del partecipatissimo incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala giunta del comune di Pescara, presieduto dal sindaco Marco Alessandrini, dal vicepresidente e assessore alla mobilità Enzo Del Vecchio, dall'assessore all'ambiente Paola Marchegiani, dai presidenti delle commissioni consigliari mobilità e ambiente e a cui hanno preso parte associazioni di categoria, ambientaliste, comitati e gruppi cittadini, TUA e ACI, tutti convocati per condividere misure che scatteranno dal prossimo 12 gennaio al fine di limitare il livello delle polveri registrato anche in città, come nel resto d'Italia. Nell'immediato si procederà con alcuni provvedimenti sostanziali, ha annunciato il sindaco Marco Alessandrini, targhe alterne per due giorni interi a settimana e per la durata di tre mesi, il martedì circoleranno quelle pari, il giovedì le dispari. Ordinanza che riduce di un grado la temperatura consentita nei condomini, portandola da 20 a 19 gradi, lavaggio delle strade da parte di Attiva. Accanto a queste misure verranno programmati anche altri interventi che saranno condivisi in un ulteriore incontro, tavolo che l'amministrazione comunale intende organizzare quale strumento di lavoro in cui coinvolgere anche le scuole. Si porranno così le basi per il piano urbano del traffico, lavorando ad uno strumento per la mobilità di aria vasta, immaginando, con soggetti preposti come TUA, ipotesi di spostamento attuabili con vettori sia su gomma che ferro e sostenibili all'interno dei tracciati già esistenti, ponendo anche le basi per un vero e proprio piano regolatore dei tempi per monitorare ingressi e spostamenti delle auto. Tutte proposte affiorate dai vari soggetti che hanno partecipato alla riunione e che meritano ulteriori approfondimenti che l'amministrazione non mancherà di fare con gli uffici della mobilità. Infine, l'amministrazione intende sostenere nuove pedonalizzazioni già dalla prossima primavera, una sperimentazione riguarderà la riviera, argomento di cui si è già discusso in giunta al fine di vagliarne la fattibilità e memori del successo riscontrato dalla chiusura del tracciato riverasco la scorsa estate con la notte del Mediterraneo, la concretizzazione. Grazie. Grazie.